C'è un brano musicale che in Cina ha fatto 100 milioni di streams, di ascolti, però c'è una particolarità, non è un pezzo come gli altri. Questo brano è stato generato da un'intelligenza artificiale, sia per quello che riguarda le basi musicali, sia per quello che riguarda la voce. È tutto generato al computer. Dietro a quest'operazione c'è Tencent Music, vi faccio notare che Tencent è una delle aziende cinesi più grosse del mondo, che ha anche un sacco di partecipazione nel mondo videogame, Ma passando alla musica, la cosa interessante che fanno notare, e ne hanno rilasciati mille di brani così con la vocina AI, è che questo tipo di tecnologia lo puoi usare sia per far rivivere le voce vecchie, cantanti quindi che non ci sono proprio più, oppure per quelli che sono viventi ma sono incasinati, tu gli cloni la voce e magari il doppiaggio del film della Pixar la prossima volta lo fa la sua voce clonata. I BTS sono a fare la leva, è ok, con la voce clonata continuano a fare tutta una serie di lavori, leggono gli audio libri per loro eccetera. Se ti interessano queste notizie, se ti è piaciuto questo video, seguimi.